peperonata leggera 80 calorie a porzione per ingredienti quantità e valori nutrizionali visita il nostro sito e adesso cuciniamo versare un cucchiaio di olio d'oliva in una padella su fuoco medio aggiungere lo spicchio d'aglio pelato la cipolla tritata molto finemente e fa rosolare il tutto per qualche minuto con un cucchiaio di legno controllando il livello di temperatura per non bruciare il preparato aggiungere al soffritto i peperoni ripuliti di semi e tagliati a listarelle mescolare bene e lasciar cuocere 15 minuti a fuoco lento per chi trova i peperoni di difficile digestione aggiungere in padella un pezzo di mela aggiungere ora i pomodorini tagliati a metà e condire a piacere con sale e pepe mischiare bene tutti gli ingredienti con un cucchiaio di legno per qualche minuto ora coprire e lasciar cuocere per altri 15 minuti a fuoco lento una volta cotti i peperoni saranno morbidi e fragranti la peperonata è deliziosa da sola con le uova la carne o con il pesce buon appetit